allora questa è una tela di 15x21 in un video precedente ho detto che andando da cagliere avrei comprato quelle 15x15 per quel progetto di natale poi però ho cambiato idea che penso anzi sono sicuro che questi qua di 15x21 sarebbero meglio per questo progetto di ideogrammi in giapponese in cinese le parole in giapponese tipo sole luna fuoco fiume e mentre le parole astrate come amore virtù e amicizia forza felicità amore eccetera eccetera sarebbe meglio scrivere in in diagrammi cinese di questi ne ho comprati tre in tutto che ora tolgo subito 88 perché mi dava vestigio la contro luce per comparato anche questa della che è di 25 per 28 per 35 e in questa invece ci vorrei dipingere un un paesaggio provenzale a in quello precedente di 15 per 21 a quei progetti natale poi ne comprerò un atto sempre 15 per 21 per portare di vincere il piccolo principe che poi metterò nella playlist del del piccolo principe in questa di 28 per 35 c'erano anche questi questi ancori di legno invece quella di 21 15 per 21 e 15 per 15 non ci ho trovato niente soltanto la le tele queste sono delle matite sfumature per sfumare il e carborgino sono dei 5 dimensioni dalla più sottile a quella più grande quindi per sfumare piccole cose più grande e anche medi sono fati di cartoncino poi ho comprato questo ciò che si gira che è qui è con la stecca che si apre questo è il massimo di della sua apertura e accanto c'erano anche dei gesti che farò vedere e nel frattempo chiuderò questa stecca di di legno e jesse si presentano in questa maniera separati l'uno dalla dall'altro sono bianche ora l'ho messi insieme sarebbe stato bello se targher anziché fare soltanto una città di c'è città di cinema e roma berlino e cannes eccetera eccetera anche venezia e così via e poi sono del parere che questo si deve utilizzare soltanto come un giac si gira ma anche ciacche e quelle le altre cose migliora utilizzo come un giacche e si disegna se me chi fa spot e ama gore da utilizzare con un giacche e core e via così c'è dire c'è per me mi sembio credo c'è no credo è meglio questo qua c'è che si che si disegni visto che il disegno è quello che mi piace di più nonno la recitare la recita però ripeto mi sarebbe stato bello se ci fossero state anche altre città del cinema grazie 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 grazie